Amici di Cavallo Magazine, ci troviamo all'interno dello stand di Guidolin, uno stand molto amato da chi ama i cavalli proprio perché ogni anno ci presentano tante novità molto adatte ai nostri amici cavalli. Gianni Guidolin, buongiorno e benvenuti qui con noi. Qual è la novità che presentate quest'anno? Quest'anno presentiamo questa novità che si chiama Waffer Proteica che è un prodotto principalmente essenziale molto molto concentrato di proteine naturali e vegetali assimilato un po' assieme anche a un po' di foraggio. Comunque per spiegare meglio tutta questa cosa che viene dalle considerazioni dei nostri veterinari che girano e abbiamo l'onore di avere qui vicino la dottoressa Baccaro che ci suggeriscono quello che manca nel mercato e quindi abbiamo pensato di realizzare appunto questo prodotto. Allora dottoressa Baccaro, questo prodotto nasce da una ricerca e da un bisogno. Esattamente questo prodotto nasce proprio da un bisogno che abbiamo reale sul mercato la carenza diciamo di qualità del fieno quindi abbiamo pensato proprio per aiutare il cavallo per soddisfare le esigenze e per il suo benessere di aggiungere alla nostra fibra lunga appunto che Guidolin ormai produce da tanti anni di aggiungere una proteina vegetale del tutto naturale che viene ben assimilata dal cavallo e che consente così al cavallo di essere ben nutrito e avere muscoli forti, sani e diciamo andiamo ad implementare, ad integrare quella che è l'alimentazione del cavallo stesso grazie a questo prodotto che vorrei ribadire che è proprio una novità diciamo su larga scala. Paolo sai quel che leggi, vedi quel che mangia perché è importante appunto far capire anche alle persone cosa mangia il proprio cavallo. Sì, diciamo essenzialmente questo prodotto va bene per cavalli sportivi ma anche per cavalli che in questo momento il tono muscolare va a meno per carenze strutturali di quello che viene mangiato e anche a volte poco assimilato. Questo prodotto automaticamente lo consigliamo per tutti i cavalli in alta attività sportiva perché la parte proteica prima della gara o appena dopo è importante per non far perdere questa struttura muscolare che è importante. Nel caso però ci fossero cavalli anziani o cavalli che non riescono a tenere questa struttura durante e o dopo la gara questo va bene appunto per sopperire queste mancanze. Tanta proteina, un po' di fibra che riesce a fare assimilare bene questa proteina. La fibra lunga è importantissima per la prima digestione in bocca. Quindi amici se volete approfondire di più l'argomento e toccare con mano il prodotto qui da Guidolin vi aspettano.